Ciao a tutti ragazzi, io sono Bobbone e oggi vi andrò a mostrare un multi-tool che ho creato io personalmente dove questo multi-tool vi andrà a ottimizzare gli FPS, cambiare in automatico la Citizen Mods BloodFX che sarebbe il sangue modificato e vi andrà anche a cambiare il sound della pistola, tutto in automatico quindi voi inserite ai Citizen Mods quello che volete all'interno di questo multi-tool, è molto semplice e con un tasto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, allora andiamo a vedere, vi andrà a modificare automaticamente queste cose così per risparmiare tempo possiamo andare sempre in apri percorso file eccetera eccetera se uno vuole provare che ne so 10C di Zen a posto di metterci un'ora ci mette 10 minuti link Discord lo trovate in descrizione allora per scaricare questo multi-tool scorrete in basso, scorrete, 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 scorrete trovate le cartelle andate su Twix4PC, l'abbiamo caricato qui, si chiama Relays Multitools Basecape bla 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 e lo andiamo a scaricare una volta che è partito il download, aspettiamo, attendiamo, pensa comunque sui 100 MB e l'ho creato io con le mie stesse mani, quindi potete controllare, caricarlo ovunque eccetera eccetera una volta scaricato lo trasciniamo sul desktop, facciamo tasto destro, estrai i file qui, quindi estrai qui estratta la cartella all'interno del Wii RAR, aprite tranquillamente e troverete tutte queste cose qua la cosa per impostare questo tool, se dovete andare su cta5path e inserite il vostro percorso di cta5, adesso vi mostro dovrete inserire questo percorso qui, quindi esattamente dove ci sta la cartella di cta andate qui, fate e copiate questo percorso qui, lo incollate qui, salvate in questo modo una volta fatto ciò, la cartella di filem ve la prende automaticamente, quindi aprite il tool fate sì, la password è escape ok, la password è escape, una volta aperto il tool vi loggerà ovviamente automaticamente nel nostro server discord ci sta perché è comunque un tool gratuito, quindi mi farebbe piacere anche se lo condividete con i vostri amici di tasto 1 andrà a ottimizzare il vostro computer, quindi ve lo faccio vedere al volo ok, una volta finito il tweak vi dirà a premere un tasto per continuare voi premete questo tasto, riaprite la cartella inserite la password, vi riloggerà su discord, bla 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 per installare le citizen, le grafiche di 5M oppure le mods, tasto numero 2 prima inserite le cartelle citizen all'interno di questa cartella qui escape boost 5M, inseritela sia la citizen che la mods per come sono quindi citizen, la scaricate e inserite la citizen e le mods, ovviamente create una cartella mods, così cartella mods e inserite qui le vostre mods che saranno un punto rpf premete il tasto 3 per cancellare le cache di 5M e tasto 4 per cambiare il sound dell'arma per cambiare il sound dell'arma lo inserite su weapon sound, inserite ovviamente i due rpf o comunque gli rpf del sound ah e per inserire bloodfx e killfeed inserite all'interno della cartella bloodfx e trattiro killfeed questo era un tool a pagamento che noi offrivamo, invece l'abbiamo rilasciato gratis perché comunque siamo arrivati a 1200 membri che in poco tempo, in un mesetto, non è male fatemi sapere nei commenti se avete bisogno di qualche tools, di qualche tips o ovunque consiglio o parere, se avete problemi eccetera eccetera, commentate qui sotto vi avete lasciato il like perché comunque sarà un tool a pagamento che abbiamo rilasciato gratis ringraziandovi dei 1200 membri su disco